Oggi presentiamo uno dei due autobus che abbiamo acquistato in bipiano con fondi di bilancio, quindi non con fondi pubblici di TPL e siamo orgogliosi e fieri di presentarlo qui all'Aquila perché lo faremo viaggiare da dopodomani sulla tratta all'Aquila-Roma, che è una tratta commerciale che a noi sta tanto a cuore perché ha visto sempre un riscontro positivo da parte dell'utenza che ci ha dimostrato un'alta fidelizzazione, quindi era giusto fare questo investimento per circa un milione di euro che comprende il due bipiano e è un servizio che offriamo agli utenti un maggior comfort, autobus e mezzi tecnologicamente avanzati garantiranno il miglior comfort possibile durante questo percorso. È un ulteriore investimento che facciamo sul territorio, quindi TUA dimostra di essere competitiva anche in un contesto privatistico perché ripeto sono tratte commerciali e per noi questo è un orgoglio. Risultato ottenuto grazie alla collaborazione di una squadra eccezionale fatta di tecnici, ingegneri, manutentori dei mezzi che ci permettono di essere competitivi anche in un settore che di solito non è nostro e non è proprio. Questo rappresenta per noi un importante investimento perché è un investimento che viene fatto su una linea commerciale, su una linea a mercato, quindi un investimento che si ripaga grazie alla redditività. L'aspetto più importante da un punto di vista manageriale è quello di essere riusciti, al di là di ogni pronostico, a far crescere anche la linea L'Aula Roma e a portarla ad un sostanziale pareggio. L'obiettivo è quello di offrire nel futuro un servizio sempre migliore, con mezzi sempre più nuovi e gradualmente valutando l'andamento della domanda per vedere anche un aumento dell'offerta.